Siamo fuori da Romagnano Sesia, lungo la Santià Romagnano Sesia a Rona, chiuso con provvedimento scellerato dalla regione Piemonte nel 2012. Questo era uno dei rami più frequentati, dichiarato incredibilmente ramo secco, la strategia è sempre la stessa, prima si eliminano le corse, poi le coincidenze, quindi si rende impossibile la frequentazione del treno e infine lo si dichiara a ramo secco. Questa era la via più veloce per arrivare al lago, linea ad altissima frequentazione turistica, in direzione di Romagnano Sesia, i semafori sono ancora attivi, segnalano linea impedita, la linea è ancora in buone condizioni, comincia appena a essere invasa, a un anno dalla sua chiusura, comincia ad essere invasa dalla vegetazione. Siamo in piena baraggia piemontese, abbiamo lasciato Romagnano Sesia, stiamo andando verso Borgo Manero e incrociamo quella che fu la Romagnano, Borgo Manero, a Rona. Il casello ormai coperto dalla vegetazione, passaggio a livello e la linea in direzione di Romagnano Sesia. In uscita da Borgo Manero, la linea ha i binari ormai arrugginiti ma ancora in perfetta efficienza. La linea in direzione di Arona in uscita da Borgo Manero.